Ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati nella Lucky Block Challenge Quest'oggi sono in compagnia di un esercito di persone che vi presento uno ad uno Quelli della mia squadra sono Emerald Ciao a tutti ragazzi HitFox E' già te qui Fox Ed HerenBlaze Ciao a tutti Ciao la cappera Non ce l'ha L'altra squadra è capitanata da Raptor Lino Ciao a tutti ragazzi Ed è formata da lui Arctic Runner Salve a tutti che c'è il web Tech4Play Ciao a tutti E Bear No non è Bear È Cristo Santo Madonna Perché mi viene Bear Ok Allora io sono Max di Berrofronzo Berrofronzo perché Berro sa di Bear questo Berro Berro Mamma mia Berro ma con la B e stronzo Berro stronzo Così non ti confondi Ok Allora Iniziamo a spiegarvi brevemente le regole della challenge La sfida del Wither Cioè la squadra che riuscirà ad affrontare e sconfiggere il Wither per prima Vincerà la challenge Ok Purtroppo però c'è un purtroppo Siccome ieri sera Anzi ieri sera poco fa Siamo stati tutti quanti degli stronzi Che abbiamo fatto un primo video Che abbiamo cestinato Dobbiamo aprire un vaso di Pandora Quindi venite seguitemi Potrebbe uscire qualsiasi cosa Un contenuto Ignoto Nascosto Proviamo La metto qua Adesso c'è tipo un idro Io mi avvicino perché sono a temerario Io ho paura Pure io ho paura L'ho aperta L'ho aperta Allontanatevi Cos'è Una tempesta di cacca Però è bella Mica male No Prattaglie Vabbè poteva andarci molto peggio Io sarei Però poteva anche andarci molto meglio Io non vorrei dire I vasi di merda Possiamo coltivare fiori Qualcuno ha un fiore da me Guardala Vado me cresciuta in fretta Le piantine di Aaron Portiamo all'expo Ok Ora ci dividiamo In squadre Vi chiedo da subito Di lasciare un bel casino Di pollici in su Per questa lucky block Qua c'è uno zombie Qua c'è uno zombie Per questa lucky block speciale Che mamma mia ragazzi È stata Veramente Veramente Difficile da organizzare Quindi sosteneteci Mi raccomando Ora Iniziamo ad aprire I nostri lucky block Io ho un piccolo vantaggio Rispetto agli altri Perché conosco bene o male Quali sono i materiali Che hanno un valore Quindi tipo Questa è ossidiana Si No un uovo di drago Credo che si possa vendere Crystal ghast Oh mamma mia Oh mamma mia Ho paura di fare casino Potrei dare fuoco al casino Con quel ghast Spero che non succeda Anzi sapete che facciamo ragazzi Lo ammazzo Ecco qua Perché Mamma mia Avrebbe fatto troppo casino Oh lingotti Preziosi Ehm I cd musicali Non ci Oh Spegni il fuoco Spegni Ok Mamma mia Stava per prendere fuoco tutto Sarebbe stata una cosa Abbastanza brutta Oh Le librerie Mi sembra che si possono vendere Ragazzi Un lucky villager Mmm Sei un esoso Lucky villager Vuoi troppe cose Mi dispiace Ehm Utensili di pietra Non ci poteva andare peggio Balle di fieno Queste hanno un valore Cuori Oh cani Venite Venite con me Amici fedeli Della bambagia Vi unirete alla mia causa Di sconfiggere Se tu ti alzi magari Alzati Anche tu Bravo Andiamo Dovete venire con me Ma non stanno Sono stro Oh Un gigante Eta questo muore soffocato Stronzo Muori soffocato Ehm Vediamo un po' Mi sposto un po' più in qua Un'ascia di diamante Buono Un pozzo Userò Ci tirerò dentro Un vasetto Wow Il mio desiderio Si è avverato Oro Oro E diamanti Ok Mi prendo anche il beacon Perché mi fa comodo La sfida di oggi ragazzi Appunto È combattere Il witerone Il witerone Come voi sapete È piuttosto forte Un witer Quindi secondo me ragazzi Dobbiamo essere Piuttosto preparati Il witer Non è da sottovalutare Non è che perché è un boss Di minecraft vanilla Allora eh Si può dire Ma qua c'è un altro ghast Aia Muori I ghast non li voglio Nella mappa ragazzi Perché fanno troppo casino Oh quante Quante ricchezze TNT Ok Pozioni varie Oh Un altro Un altro pozzo Uh Rullo di tamburi Vabbè magari se riesco Che Oh Che culo Che sedere Quanta acqua Non riuscirò mai a recuperare La mia roba Dallì in mezzo C'è troppo Troppo caos Fammi mangiare la torta Dove sta Vedo degli smeraldi Quelli mi appartengono Ok I miei cani Credo che faranno Una brutta fine Molto presto Ho altri Due lucky Block Utensili di oro Questi non mi dispiacerebbero Purtroppo però Ho delle pozioni Che Mi occupano l'inventario Quindi Magari me ne libero Un attimino Così E mi prendo alcuni Di questi utensili Finiamo i nostri blocchi Oh Chris Una witch No la witch no La witch no La witch no E infine Oh dei gatti Ok Ho dei gatti E dei cani Potrebbe fare qualcosa Contro Allora I cuori funzionano Che i primi da prendere Mi sembra che siano i rossi Quindi magari Un bel Allora I cuori li prendo io Per tutti Dai Almeno i rossi Ah che gentile Quindi sono altri Ok Ma io ho due Ho due cose che mi avanzano Cosa gli vuoi da? Prendetevi un'armatura Magari A me sarei un'armatura Sai qualcosa per l'armatura? Vi do i piedini di diamante extra Io ho preso il lanciamissile Vai Io ho il tesla E vi do anche questo Tieni dove sei M? E no M R Ecco questa è la tua arma Io c'ho questa We are ready No Ma gli altri saranno pronti? Sì sì l'ho detto L'ho scritto in chat Ok Io ho ancora un botto di stack E a me serve i piedini quelli in diamante Eh non so Non so ragio A questo punto Tiè ti do uno stack Chiappa Qualcun altro ha bisogno Eeeh Dallo a me Dammi il 32 Tiè ti do uno stack pure a te A me serve Prendi Aspetta E dai un po' M Sì sì aspetta che mi prendo un'altra batteria Tieni Fox Te ne do pure uno stack a te Tieni A quanti staccai? Eh non lo so Mi è andata un casino di culo Lei è un altro per caso No no Mi servono a me Eh ragazzi non posso fare un cazzo Stiamo pronti ad affrontare il Wither Ok Ok siamo arrivati qui nel Warp Nell'arena magica Stiamo aspettando che l'altra squadra ci dia l'ok Ci sono Ci sono Ok Tra cinque secondi Via per noi Ha detto Via per noi L'hanno fatto No si sentirebbe Aspetta Ok 3 2 1 Via 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 Allontana prendiamo distanza Eren aspetta ancora nei nubi degli spari Ma è che è inutile Gli ha levato mezza vita Gli ha levato No ed è prima a spawnare Ah ok Gli ha scompiare C'ha ragione C'ha ragione Ecco vai ora Eccolo Minchia ma io non lo riesco ad acchiappare Vai 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 Sciottatelo Sciottatelo Non lo vedo Non lo vedo Lo sto arrando Lo sto arrando Dai dai Via finito Finito È morto Tempo 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 Ho vinto Fatto 30 secondi ne ha Finito Li abbiamo sconfitti mi sa Ok posso bruciare l'arena adesso domani No Aspetta aspetta Ora vediamo se loro hanno perso Ok Ma loro dove stanno Loro stanno nell'arena 2 Vogliamo andare a vedere Facciamo warp arena 2 Ok Però senza rompergliela No loro non hanno finito Guarda Ah non c'è più Vai aiutiamoli Li abbiamo Abbiamo stravinto Ma dov'è il loro wither Ah eccolo di là Stanno puzzando Guarda lì Dove sono Il loro wither è di là Dietro l'arena Che sfortunati Vabbè dai Li aiutiamo Dai vai vai Devo in una mano Aiutiamoli Arena 2 vai Ok Andiamo Ma dietro dove? C'è l'acqua Vai tieni Qui dove c'è l'acqua Dietro dietro Sì stanno là sopra Il wither loro è lì Ma dove? Qua Eccolo lo vedo Lo vedo Aia Non si vede niente Sono incastrato Aiuto io pure Ok Ok ho dei blocchi Ho dei blocchi Eccolo Dove siete? Lo vedete? Ucciso Ok l'hanno finito pure loro L'hanno finito pure loro Io non l'ho capito Però vabbè Ok Ok Perfetto Però abbiamo vinto noi Abbiamo vinto noi e di brutto pure eh ragazzi Eh già 30 secondi L'ho preso sempre L'ho preso sempre con l'arco E anch'io Io c'avo i missili Ce li lanciavo bestia proprio Ma già che ci siamo Uccidiamo tutti ragazzi Li uccidiamo pure a loro Ma sì vai Ma c'è un casino di fiamme Fox di infà Warp Arena 2 E l'ho fatto Facciamo così Andiamole la nostra E diciamogli di venire Ok finito No aspetta Sciottiamoli Chi è questo Aiuto aiuto Chi è che ti sta fiammeggiando Eren Porco il cazzo Raptor Da che parte siete? Io sono Warp Arena 2 Non c'è niente Mi sa che ho finito i missili Oddio Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non c'è ancora Sto prendo fuoco io Madonna che troiaio Che abbiamo fatto Ok Ma ragazzi Boh io non l'ho capito Ok Vabbè mostra Lo salutiamo tutti insieme Dai Chi è lui? Mi stanno No mi stanno Bruciando tantissimo Io ho mezzo cuore Ahia Sono morto Eccolo Vabbè Riuniamoci Ehm Spostaci tutti insieme Warp Inizio Ma dov'è che eravate? Io non ho capito Warp Inizio Chiudiamo Vi abbiamo battuti Siamo stati molto molto più veloci Ma è bravo Ma di brutto Io sono qua che tempo Mi cercavo tantissimo Noi in 30 secondi L'abbiamo beccato Ma lì anche Noi in 15 Ma scusate Come è che l'avete sciottato Tutto lanciarazzi? Sì Lanciarazzi E Lanciafiamme Lanciafiamme Tesla L'abbè ragazzi Chiudiamo il suo video Rendiamo produttivo questo giorno Va bene Quindi Siamo tutti qua Per chiudere il video Abbiamo affrontato il Wither Mi raccomando Lasciate un bel pollice in su Sul video che state guardando E per me stavolta è tutto Bella Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Trickshot Ciao a tutti Ciao a tutti